Le altre persone se ne approfittano della tua gentilezza? Beh, guarda questo video e ti spiego come risolvere questo problema. Sappiamo che al mondo ci sono persone differenti, ci sono quelli arroganti, quelli pieni di sé, poi ci sono anche quelli umili, gentili, spesso però si sente dire che le persone gentili tendono a subire, cioè tendono a essere un sottomesse a quegli arroganti e che in fondo nel mondo finisce col dominare chi aggredisce di più, chi spinge di più. Può essere, ma secondo me bisogna anche chiarirsi un po' l'idea su che cosa vuol dire dominare e anche su che cosa vuol dire essere gentili o meglio per quale motivo uno decide di essere gentile, perché nei miei ragionamenti ho sempre l'impressione che quando uno dice non vale la pena essere gentile in realtà sta dimostrando che è gentile solo perché si aspetta una risposta di un certo tipo da qualcun altro. Quella persona che parla così è un mezzo gentile, un po' deluso dal fatto che la sua gentilezza non gli ha portato chissà che risultati, ma se ci ragioni un attimo il vero gentile non dovrebbe nemmeno porsi questo tipo di problema. Ma poi c'è anche un altro aspetto quando si parla di dominare il mondo, di riuscire nella propria vita. Beh, stiamo parlando di dominare il mondo esteriore e magari può essere che per dominare, ammesso che ti interessi il mondo esteriore, sia necessario essere arroganti, essere aggressivi, cercare di mettere un po' i piedi in testa agli altri. Ma se invece volessi dominare il mondo interiore ben più interessante, ampio, vasto, pieno di belle sorprese, beh allora lì diciamo che l'aggressività ti si rivolterà soltanto contro. E' chiaro, a volte la gentilezza viene scambiata con la debolezza, ma secondo me in realtà è proprio un po' il contrario e il primo punto su cui ti invito a riflettere è quello che ho accennato prima, cioè perché sei gentile. Sei gentile perché vuoi ottenere qualcosa, sei gentile perché ti aspetti una risposta di un certo tipo da parte degli altri o sei gentile perché è la tua indole essere gentile, è diciamo è ciò che vuoi essere, è la persona che vuoi essere, perché se è il secondo caso la risposta che ottieni con la tua gentilezza dovrebbe essere abbastanza secondaria per te. Quello che voglio dire è che la gentilezza non è un mezzo, ma è un fine, non è un mezzo per ottenere qualcosa, ma è un obiettivo che vuoi raggiungere per stare meglio con te stesso in primis. Chiaro, se la gentilezza la usi come un mezzo allora sì ti può deludere, ti può deludere perché magari gli altri non reagiscono come ti aspetti, oppure ti può deludere proprio per come sei gentile nei confronti degli altri che magari notano che è insomma una falsa gentilezza, semplicemente una gentilezza un po' superficiale. Io credo che gentilezza e sicurezza in sé non siano affatto opposti, anzi io ho sempre pensato che la persona davvero sicura è una persona gentile, è una persona calma, è una persona che non ha bisogno di reagire eccessivamente quando viene stimolato anche da qualcosa che non gli piace. E ho sempre pensato anche che invece la persona arrogante, piena di sé, quella che vuole sempre attaccare, vuole sempre aver ragione, di fatto è un pauroso, di fatto è un insicuro che sta cercando di usare questa aggressività come arma per evitare di venire scoperto. Allora il consiglio che ti do è quello di valutare la gentilezza non come un mezzo per ottenere qualcosa, ma come una modalità di vivere. Deve farti piacere sorridere a qualcuno per strada, deve farti piacere tenere la porta aperta a qualcuno, deve farti piacere dire grazie. Se lo fai solo perché ti aspetti qualcosa da qualcun altro, forse non vale nemmeno la pena farlo. E io credo che questa forma di gentilezza fatta in primis per te possa aiutarti davvero a coltivare più autostima e più sicurezza in te, perché ti scoprirai in qualche modo, scoprirai in qualche modo che ti piaci di più, inizierai a piacerti di più, perché in fondo, altro sospetto che ho sempre avuto, l'arrogante, quello che alza la voce, non è che si piace tanto, non piace agli altri, ma secondo me non piace nemmeno tanto a se stesso. Se vuoi capire magari qualcosa in più su come sviluppare la sicurezza in te, trovi nella descrizione di questo video un altro video che si intitola Ecco cosa ti manca per essere sicuro di te in ogni situazione.